Il pastore Eugenio Bernardini Nella prima epistola di Timoteo, capitolo 1, leggiamo nel versetto 12 Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia Per avermi stimato degno della sua fiducia Chiunque si avvicini a una nostra Chiesa, venendo da altre esperienze, può notare che accanto alla figura pastorale ci sono delle figure laiche che portano una specifica responsabilità e che danno consistenza a quell'idea di collegialità e diversificazione del ministero ecclesiastico che contraddistingue la tradizione protestante Una frase che noi diciamo spesso e volentieri è Noi facciamo le cose insieme E infatti è lo sviluppo della nostra teologia e liturgia Le linee etiche da condividere La responsabilità sociale e politica La distribuzione delle risorse che raccogliamo tramite le donazioni Tutto viene deciso in modo collegiale La nostra inoltre è una collegialità ordinata e non disordinata Questo ordine proviene dalle nostre discipline Discipline approvate anch'esse naturalmente in modo collegiale Frutto di un'esperienza e di una mente Che affondano le loro radici nei secoli I ruoli non devono essere confusi ma definiti La pari dignità e il rispetto reciproco sono riconosciuti e praticati Certo non in modo perfetto come abbiamo dovuto purtroppo verificare in tante circostanze Però il sinodo che noi abbiamo avuto è stato un esempio di questa collegialità condivisa e ordinata Ma oltre il sinodo tutta la nostra richiesa A livello locale, a livello intermedio Si caratterizza così Per una grande partecipazione Rispettosa gli uni degli altri Per una grande condivisione Vorrei esprimere perciò prima di tutto Una parola di gratitudine a Dio Per il servizio che tante sorelle e tanti fratelli continuano a donare alla missione della nostra Chiesa E senza questo servizio la nostra Chiesa non sarebbe tale Non solo loro ma anche Vorrei ringraziare Esprimendo gratitudine a Dio Anche le loro famiglie Che con molta comprensione Li sostengono In questo servizio Io considero tutto ciò Un miracolo Con cui il Signore Ci benedice Un miracolo protestante Vorrei unire quindi Tutte queste persone Nel ringraziamento Che rivolgono Ha già fatto il sinodo A chi lascia il servizio in tavola Dopo tanti anni Aldo Lauserot E anche Vorrei ringraziare La disponibilità con cui la sorella Laura Turchi Ha accettato di candidarsi Per questa avventura E che inizia oggi Con questo sinodo Il suo servizio Ma naturalmente Ringraziamo anche tutti gli altri E tutte le altre Che terminano Un servizio O coloro che iniziano Un altro servizio Questa è La chiesa Che noi Vogliamo Quest'anno il sinodo Si è svolto Nel corso Della memoria Dei 500 anni Della riforma Abbiamo avuto Un'anticipazione Domenica mattina A Chamforan Per ricordare Che si tratta Di un cammino Che percorriamo Anche da più Di 500 anni Ma che certo 500 anni fa Pochino dopo Per la precisione Storiografica Ci ha coinvolti In maniera Davvero Determinante L'anniversario Che noi stiamo Vivendo Quest'anno È un anniversario Grandemente Positivo Non sta passando Inosservato Neppure In Italia E questo Ammettiamolo Ci ha un po' Sorpresi Certo Non coinvolge Le masse Di questo Nostro Paese Ma Quella parte Più sensibile Culturalmente E religiosamente Quest'Italia Si accorta Di Lutero E del protestantesimo E la cosa Veramente Sorprendente È che Non è più Spaventata È un elemento Che ci ha ricordato Paolo Naso Nella Serata Pubblica Di lunedì Lutero Senza Averne Paura Calvino Vediamo un po' Bisognerebbe fare un test Il repertorio Delle pubblicazioni Ma anche il calendario Delle celebrazioni Dei convegni Accademici Delle iniziative Di base Persino Alcuni Atti istituzionali Come la dedica Di vie Piccoli Slarghi A Martín Lutero Non so voi Ma a me Sorprende In un paese Che indulge All'analfabetismo Religioso Come l'Italia Non è Un risultato Di poco Conto Ma non ci dobbiamo Contentare Soltanto Di un risultato Quantitativo C'è anche In questo Quinto centenario Un risultato Qualitativo Non soltanto Si sta parlando Tanto Della riforma Tanto Iustamodum Cioè Il riferimento A prima Ma la cosa importante Come dicevo Senza paura Se ne sta parlando Meglio Non addebitando Più A Martín Lutero A Calvino Ai riformatori Alla riforma Ai protestanti Tutti i mali Della società Moderna Il mantra Che si ripete Da secoli L'inizio Della fine Del regime Di cristianità La secolarizzazione L'individualismo Il relativismo Etico Ma quest'anno Abbiamo invece Potuto constatare Che c'è spazio Per Interpretazioni Nuove E positive Naturalmente Al di fuori Del protestantesimo Merito Soprattutto Della chiesa Cattolica Bisogna Riconoscerne Il contributo E di Papa Francesco In particolare Hanno assunto La sfida Delle celebrazioni Accettando Di partecipare E contribuire Attivamente A vari eventi E soprattutto Deponendo La tesi Dello scisma E della divisione E della divisione Per confrontarsi Sulle prospettive Del cammino Comune Anche Con le chiese Figlie Della riforma Non c'è ancora Stato Una modificazione Del vocabolario Del concilio Vaticano Secondo Siamo Pur sempre Comunità Ecclesiali E non chiese Ma nel linguaggio Quotidiano Dei convegni E dei riferimenti Siamo Chiamati Chiese Si tratta Di una prospettiva Questa Di accoglienza Del protestantesimo Determinata Non solo Dalle urgenze Della storia E dalle sofferenze Dell'umanità Che già sarebbero Motivi sufficienti Per un cammino Comune Ma questa Novità Ecumenica A mio parere Oggi Conferma Un nuovo Registro Spirituale C'è Un nuovo Registro Spirituale In questo Confronto Che emerge Costantemente La lettera Che Papa Francesco Ci ha inviato A questo Sinodo Ma anche L'intervento Di Monsignor Malfatti A nome De Vescovi Italiani Hanno Oltre Le parole Un Registro Un afflato Di fraternità Di condivisione Di partecipazione Di rispetto Che un tempo Non c'era Credo che il Presidente Del nostro Sinodo Il pastore Peter Ciaccio Abbia davvero Colto Quando Ha salutato Monsignor Malfatti Malvestiti Malvestiti Malfatti era un altro Ce ne è bastato uno Malvestiti Quando Ha notato Rispondendo Al suo Messaggio Siamo Passati Dal Pregare Insieme Per l'unità Dei cristiani L'uno Accanto All'altro Da questo Siamo passati Al pregare Gli uni Per gli altri Un passaggio Spirituale Non da poco Possiamo Definirla Una Terapia Ecumenica In corso Una Terapia Ecumenica Siamo In cura Ci stiamo Curando In questa Terapia Ecumenica Non è finita La terapia Siamo In corso Tutto ciò Disegna Un nuovo Orizzonte Nella nostra Responsabilità Di testimonianza L'ho accennato Di sera A termine Del nostro Della nostra serata Dedicata Sul futuro Della riforma Noi oggi Insieme Alle chiese Sorelle In giro Per il mondo Nelle varie Celebrazioni Molto belle Importanti Intense Emozionanti Che si stanno Svolgendo Beh abbiamo Davanti Un orizzonte Nuovo Che possiamo Definire Con due Termini Ecumenico E interculturale Ecumenico Perché non possiamo Più concepire Noi stessi Al di fuori Di questo Contesto Lo dobbiamo Ricordare Sono stati I protestanti A inventare L'ecumenismo Già alla fine Dell'ottocento E oggi Siamo sempre Più consapevoli Il nostro sinodo Lo ha dichiarato In un importante Documento Anni fa Sull'ecumenismo Però Bisogna anche poi Vivere le cose Che si dichiarano Siamo sempre più Consapevoli Che non possiamo Vivere Testimoniare La fede cristiana Che edifica Che non distruggia Distrugge Che non distrugga L'altro elemento Del nostro orizzonte È un elemento Di grandissima Complessità Siamo tutti Siamo tutti Perfettamente Consapevoli Che il cristianesimo È un fenomeno Globale Internazionale Ormai Da tantissimo Tempo Il cristianesimo È anche La religione Che più È vivace Nel mondo Cresce Nel mondo È una notizia Perché normalmente Si pensa Che sia un'altra Religione Quella Più vivace È in crescita Ma quello Che ancora Non fa parte Della nostra Consapevolezza È che il cristianesimo Di quello Che noi definiamo Il sud del mondo Non è solo Cresciuto Numericamente Ma è diventato Adulto Vuole essere Ascoltato E vuole Contribuire A scrivere L'agenda Della Delle priorità Senza Subire L'agenda Dai cristiani Del nord Del mondo È un cambiamento Epocale Per tutti noi Se ne sono accorti Coloro che partecipano Alle grandi assemblee Ecumeniche In cui Le chiese Del nord Del mondo Non sono più Quelle che guidano I processi Ma noi ancora Non abbiamo Avvertito Questo Cambiamento Non solo L'altro Cambiamento È che Nord E sud Ormai Convivono Nelle nostre Città E nelle nostre Chiese Del nord Del mondo Una volta Si andava Le grandi assemblee Ecumeniche E una delle cose Che colpiva Tutti noi Era La molteplicità Dei costumi Dei colori Delle lingue Delle liturgie Per noi Poco numerosi Protestanti italiani Era veramente Una grande esperienza Esotica Stavano La Ora Stiamo Qua A vivere Questa Multiculturalità Questi Tanti Colori Sensibilità Spiritualità Liturgie E non è mica Semplice E non è mica Semplice Tutto ciò Rende Complesso E urgente Un Riequilibrio Di teologie Di spiritualità Di potere In questo Sinodo La parola Potere Tornata È qualcosa Che Va Affrontato Perché Meglio Dichiarare E nominare I problemi Che nasconderseli Questo è molto Protestante E bisognerebbe Ricordarselo In questo anno Dei 500 anni Della riforma E allora Quando Parliamo Del Nostro Tentativo Del nostro Progetto Di essere Chiesa Insieme L'abbiamo Detto Più una Dinamica Che un Traguardo E ci rendiamo Conto Che lì Si sta Giocando Una partita Importante Che si Trova Oggi In un Momento Cruciale Perché È terminata Diciamo La prima Fase Quella Degli Entusiasmi E della Speranza Oggi Siamo Nella fase In cui Dobbiamo Affrontare Parecchie Criticità Forse Siamo Su Un Discrimine Su Discrimine Che non Riguarda Soltanto Le questioni Etiche Abbiamo Affrontato Il tema In modo Molto Vivace Durante La Discussione Sul Documento Sulle Famiglie Sulla Nostra Comprensione Sulle Nuove Famiglie Sulla Questione Delle Benedizioni Ma Questo È Soltanto Una Parte Della Criticità È Come La Punta Di Un Iceberg Sotto Ci Sono Molte Altre Questioni Che Noi Dobbiamo Affrontare Con Maggiore Coraggio E Volontà Perché Ne Abbiamo Bisogno Prima di Tutto Noi Che Viviamo Nelle Nostre Chiese Questa Realtà Non è Rappresentativo Questo Sinodo Di Questa Realtà Ma Il 20 Tra il 20 E il 25 Percento Delle Nostre Chiese Quando si Riuniscono Per il Culto Domenicale Vivono Ben Altri Colori Nelle Loro Assemblee E Il Fatto Che Questo Non Sia Rappresentato In Sinodo È Un Problema Ne Hanno Bisogno Le Nostre Chiese Ma Ne Ha Bisogno Anche La Società La Società Che Deve Trovare Gli Strumenti Per Integrare Culture Ancora Più Diverse Di Quelle Che Noi Viviamo Nella Nostra Chiesa Dove Comunque Denominatori Comuni Ce ne Sono Tanti Nella Società Nella Città Che Abitiamo È Ancora Più Complesso Ma Dobbiamo Trovare Qualche Strumento Per Costituire Quello Che si Chiama Un Nuovo Patto Di Cittadinanza Non È Facile Non È Facile Niente Ma Non Provarci A Costituire A Cercare A Costruire Insieme Questo Nuovo Patto Di Cittadinanza Nella Società E Questo Essere Chiese Insieme Nella Comunità Di Gesù Cristo Non Provarci È Peggio Pensare Che sia Più Semplice Ed E E E E E E E E A Casa Nostra Si Fa Come Vogliamo Noi Come Diciamo Noi È Illudere Se Stessi Perché Che non È Richiamo Al Principio Di Autorità Che Risolve Le Situazioni Complesse Le Rinvia Tenta Di Soffocarle E Ne Ottiene Una Reazione Opposta Dobbiamo Assolutamente Provarci È La Grande Sfida Della Della Nostra Quotidianità Sia Nelle Chiese Sia Nella Nostra Società Sappiamo Che c'è qualcosa Di buono Che sta accadendo Nelle nostre Chiese Ma anche Nella società Ne abbiamo Accennato Anche Nel corso Del nostro Dibattito Sinodale Anche a livello Istituzionale Politico Si stanno cercando Delle strade Nuove Che vanno Incoraggiate Questa Complessità Che già di per sé Sarebbe Una È Una Fatica Notevole Da Affrontare Resa Ancora più Problematica Dalle Tensioni Internazionali Noi ormai Viviamo Con La speranza Di non ricevere La mattina Quando ci alziamo Brutte Notizie Accendendo La radio Sperando Che Dicendo Speriamo che stanotte Non sia successo Davvero Niente Di brutto E poi Certo Ci sono le Prospettive Del futuro Economico Che Ormai Ci attanagliano Il 9 agosto Del 2007 Quindi Esattamente Dieci anni fa Iniziava La grande crisi Il primo Crack Di alcuni Fondi Immobiliari Americani Dopo qualche Mese L'insolvenza Di alcune Grande Banche E poi Tutto il Resto Gli economisti Hanno cominciato A utilizzare L'espressione Grande Crisi Con Le Maiuscole E noi Da questa Grande Crisi Ancora Non ne stiamo Uscendo Anzi La grande Crisi Tutto con le Maiuscole Maiuscole Sta Ridisegnando Equilibri Forse Bisognerebbe dire Squilibri Mondiali Con tutte le Conseguenze Che noi ormai Conosciamo A casa Nostra Riduzione Delle Protezioni Sociali Precarietà Impoverimento E la grande Crisi Genera Insieme Alle Guerre Ormai Alle Porte Dell'Europa Quel Flusso Epocale Di Rifugiati E Migranti Che ben Conosciamo Anche Prima C'era Questo Flusso Prima Di dieci Anni Fa Però L'immigrazione Regolare Contingentata In Europa Di Immigrazione Di Lavoro Era come Una Valvola Di Sfogo Entravano Anche I cosiddetti Irregolari I Saint Papier Però C'era Un flusso C'era la Possibilità Di Regolare La Tensione Era Alta Però Il flusso C'era Perché L'Europa Aveva Le porte Aperte Per il Lavoro Questo Si è Bloccato E ha Creato Insieme Alle Guerre Quest' Esplosione Di Disperazione Di Fuga Di Flussi Che ben Conosciamo E che Nessuno Sa bene Vuole Vuole Affrontare E' come se I motori Dello sviluppo Economico Dell'Occidente Che sappiamo Negli anni Passati Hanno avuto Qualche Problema Ogni tanto Scoppiettavano Tossichiavano Funzionavano Invece Dieci anni fa Si sono Guastati Adesso Ci dicono Che sono Ripartiti Ma se voi Sentite il rumore Non batte Questo motore Come una volta C'è qualcosa Che non va E noi Ci stiamo Ormai Attrezzando Abituando All'idea Che il prossimo Futuro Speriamo Non troppo lungo Ma potrebbe essere Lungo Sarà Il consolidamento Dell'area Del lavoro precario Meno pagato Alla disoccupazione Giovanile E poi Questa Impossibilità Di dare Anche un piccolo Sfogo Alle tragedie Del sud Del mondo Abbiamo di fronte Dunque Un orizzonte Davvero Difficile Non Ce lo possiamo Nascondere Un orizzonte Difficile Che Per la nostra Piccola Chiesa Per la nostra Piccola Unione Di Chiese Significherà Continuare A tenere alto L'impegno Per recare Soccorso Sollievo Cura E insieme Ricerca Di equità E giustizia Un impegno Che continuerà A vedere In prima linea La nostra Diaconia E noi siamo Abbiamo Espresso Parole Di Riconoscenza Per tutto Ciò Ma anche In prima linea Dovranno stare Come stanno Le chiese Soprattutto Per contrastare Le tensioni Le conflittualità Sociali E come ha dichiarato Questo sinodo Non per la prima volta Ma anche Quest'anno Per contrastare L'odio A cui Il terrorismo Da una parte E l'estremismo Ideologico Dall'altra Ci vorrebbero Spingere L'odio Dice Isaia Capitolo 30 Versetto 15 Nella calma E nella fiducia Sarà La vostra Forza Non certo Nell'odio In seconda Timoteo 1.7 Leggiamo Dio infatti Ci ha dato Uno spirito Non di timidezza Ma di forza Di amore E di autocontrollo Versetti Che sono citati Costantemente Dalle chiese In Europa Quando Devono Affrontare I lutti A seguito Di attentati Il futuro Che abbiamo Davanti E certamente Nelle mani Di Dio Bisogna ricordarlo Sempre con speranza Ma Dio Ci ha Chiamati A essere Suoi Testimoni E collaboratori Ricordate Il versetto Con cui ho aperto Questo Questa piccola riflessione Per chi Per chi Ci ha stimati Degni Della sua Fiducia Ci dà la forza Per questo Noi siamo impegnati A percorrere Insieme Insieme a tanti Tanti altri Lo diciamo Sempre Insieme a tanti Altri Grazie al cielo La strada Della solidarietà E del rispetto Reciproco Della coesistenza E del dialogo Fra culture E religioni Diverse Nell'impresa Cito Ancora Monsignor Malvestiti Nell'impresa Di tessere E ritessere La pace Per l'unica Famiglia Di Dio Penelope La chiesa Che tesse E ritesse La pace Per Ulisse L'unica Famiglia Di Dio La paura Care sorelle E cari fratelli Non deve Vincere Soprattutto Non può vincere I cristiani E termino Ricordando Un'espressione Di Lutero Siamo Nell'anno Dei 500 anni Della riforma Lutero C'è stato ricordato Lunedì sera Visse Drammaticamente La riforma Cioè La sua protesta In un momento Di grandi Difficoltà In molti Momenti Di grandi Difficoltà Della sua Esistenza Disse una frase Celebre Anche se Sapessi Che domani Il mondo Finisse Nel mio giardino Pianterei Lo stesso Un albero Di mele Che senso ha Fratelli e sorelle Piantare Un melo Quando il mondo Ribolle Quando tutto Sembra Andare In una direzione Folle Incomprensibile Ha senso Perché anche Un piccolo E semplice Gesto simbolico Come quelli Che possiamo Fare noi Solo piccoli E solo simbolici Perché Sono troppo pochi Anche un piccolo E semplice Gesto simbolico Come piantare Un melo Quando tutti Intorno a noi Dicono Che domani Finisce il mondo Può diventare Profetico E davvero Mobilitare Energie Impensabili Noi a questo Siamo chiamati Che il Signore Ci benedica E ci guardi Grazie Grazie